Sono davvero impegnato grazie Volevo soltanto chiederle del cioccolato La fornitura pita di cioccolato per Charlie Scusi quanto l'avrà? Non avrà niente E perché no? Perché avete franto le regole Ma quali regole? Non abbiamo visto nessuno Socchezze Sbagliato Nel paragrafo 37 quando Charlie ha filmato C'è scritto veramente questa fotocoppia delle regole E volete leggere tranquillamente? Guarda che c'è scritto C'è scritto l'autorizzazione del proprietario della fabbrica Eccetera eccetera E tutto qui Chiaro come il sole Avete rubato bottiglie frizze sulle altre E ancora peggio Avete volato nella torre Ora deve essere pulita e stelizzata Quindi non avete niente Avete perso Buona giornata signore Lei è un truffatore Un lestofante e un buffone Ecco che cos'è Come può fare una cosa di questo genere? Alimentare le speranze di un ragazzino E poi mandare in pezzi tutti i suoi sogni Lei è soltanto un mostro Te l'ho già detto Buona giornata Grazie a tutti i suoi sogni Grazie a tutti i suoi sogni